Mi sentivo soffocare. Mi sono svegliata e mi sono accorta che stavo in una bara. Mi sentivo soffocare e fuori udivo delle voci conosciute che parlavano tristemente. Ho spinto il coperchio che non era ancora sigillato e i miei parenti hanno visto la mia mano che usciva dalla bara. Hanno detto che ero stata vittima della sindrome di Lazzaro. Perché? Commento. Perché in un'altra vita cercasti di soffocare nell'acqua un figlio non voluto.